Attraverso Pietro Ubaldi La nuova civiltà del terzo millennio, attraverso Pietro Ubaldi Per quanto mutiamo continuamente la prospettiva percorrendo i vari punti della periferia, la struttura stessa dell'universo ci fa orientare e ritornare sempre verso lo stesso concetto fondamentale. Esso è un pensiero centrale attorno a cui tutto rota e che si può chiamare Dio legge ordine. Non possiamo impedire che tutti i concetti di questa trattazione gravitino verso questo centro perché tale è la struttura dell'universo e il nostro pensiero deve modellarsi su questa struttura e non può che esserne l'espressione. Può così sembrare che diciamo sempre la stessa cosa, ma è l'universo che effettivamente è sempre la stessa cosa. Può cambiare il punto di vista alla periferia e la forma nel relativo, ma non può cambiare la realtà al centro e la sostanza nell'assoluto. Nella stessa guisa, secondo cui è fatto l'universo, per infinite vie, da qualunque punto si parta, si finisce col giungere sempre allo stesso centro. Il creato ci appare e nella forma è infinitamente vario, eppure in sostanza è sempre la stessa cosa. Sicché noi non facciamo che fotografare la realtà quando siamo costretti a ripetere dal principio alla fine sotto infiniti aspetti sempre lo stesso concetto. Dio legge ordine. Tale è lo stato delle cose e non possiamo mutarlo. Il principio è sempre lo stesso e non possiamo fare a meno di sempre ritornarvi. Commento Pietro Ubaldi, il grande strumento di La Grande Sintesi, parla di Dio legge ordine come il centro dell'esistere. Al centro fanno riferimento altre poderose fonti sapienziali che, non a caso, sono apparse nello stesso periodo storico di Pietro Ubaldi per spiegare alla nostra umanità come funziona il mondo. A. Inghilore Il paraso Av charcoal Il parason farmero Il paroso who Torn Administratore Il parason farmero Il par Gates Il parason farmero Con profilo è dott representation Il parázặc